Salve amici delle scommesse sportive di Casino Online. Oggi vi vogliamo presentare Malina Casino. Questo è il portale di scommesse gioco d'azzardo online più gettonato in Italia. Questo bookmaker riesce a soddisfare ogni appassionato scommettitore di casino, di slot, di giochi da tavolo e di scommesse sportive online. Il sito possiede una regolare licenza e proporre un gran quantitativo di scommesse interessanti con le quote tra le più alte del mercato. I pagamenti delle vincite risultano sempre rapidi anche con le scommesse live. È da evidenziare che è possibile scommettere con più di 500 opzioni differenti per ogni singolo evento sportivo presente nel suo palinsesto. Infatti, oltre alle classiche scommesse, si potranno piazzare ad esempio scommesse con gli handicap asiatici o europei, sul numero di cartellini gialli o rossi, sul numero dei calci d'angolo, sui tempi parziali, sui risultati esatti, o sfruttare tutta la puntenza delle scommesse combo. Emozionanti sono le scommesse sugli sport virtuali, che portano tutti gli amanti del gioco d'azzardo a puntare veramente sulla fortuna. In questo ambito rientrano le partite di calcio simulato, come anche il tennis, le corse dei cavalli e le corse dei cari. Ciò che differenzia Malina Casino dalla molteplicità di altri bookmaker in circolazione sta nell'offerta dei bonus, per cui vi consigliamo di andare spesso a visitare la pagina delle promozioni per non perdervene nemmeno una. Ampia scelta di giochi all'interno del catalogo del casino, suddivisi in varie categorie, tra cui slot, giochi da tavolo e di carte, giochi con jackpot, poker, bingo e giochi da casino con croupier dal vivo. Le slot machine sono senza tubio i giochi preferiti per la maggior parte dei giocatori di ogni casino e Malina Casino dispone di un'ampia varietà di titoli. Le slot sono suddivise in classiche, 3D e moderni. Tutte hanno un'eccellente grafica per offrirvi momenti di assoluto divertimento. Per quanto riguarda i giochi di carte, Malina Casino dispone del blackjack french, blackjack multi-hand, mini baccarat, blackjack beep, blackjack switch, baccarat gold e baccarat professional series. All'interno del Malina Casino troverete diverse varianti anche di roulette, tra cui la European Roulette, l'American Roulette, la Premier Roulette e la Roulette Advance. Tutti i giocatori del live casino potranno mettere alla prova le loro abilità con croupier dal vivo e in tempo reale con uno streaming video di alta qualità. Infatti Malina Casino offre una ricca collezione di giochi nel suo live, tra cui troveremo Live Draven Tiger, Live Blackjack, Live Baccarat, Live Casino Holdem, Live Ultimate Texas Holdem e tanti altri. Altro punto a favore dei servizi offerti da Malina Casino consiste nella varietà dei pagamenti. Le transazioni potranno essere effettuate non solo con le tradizionali carte di credito debito prepagate o anche con i classici bonifici, ma la vera novità sta nel poter utilizzare le moderne criptovalute come i bitcoin. Prima di salutarvi vi ricordiamo che in descrizione troverete i link per leggere la recensione completa e visitare il sito direttamente. Non dimenticatevi anche di iscrivervi al nostro canale. Buona fortuna! Grazie a tutti!